e accogliamoli con un grande applauso accogliamoli con un grande applauso attendiamo che si posizionino allora Marco andremo a vedere una coreografia su un brano di Sciocca Mocca Sciocca Mocca su un coreografato in mano una coreografia scusate di Claudio Valentino ecco noi siamo pronti io però non ho sentito l'applauso ma lo fate così ho oh 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 less ALLA il suo Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.